Che bello che ci sarà il balo di Natale a scuola. Oh sì, ho sentito che verrà un DJ bravissimo, non vedo l'ora di scatenarmi. Eh già, sì io non potrò scatenarmi tanto, non potrò mangiare tutto quello che voglio, però dai, me la spasserò. Posso ancora, visto che sono nei primi mesi di gravidanza. Ehi ma hai dato il certificato medico che sei incinta? Già, chissà cosa penseranno o avranno pensato se l'hai già dato. Cioè non è una cosa che accade tutti i giorni, magari è una cosa che accadeva tempo fa, ma non serviva neanche il certificato medico. Sì sì, l'ho già dato, infatti andrò ancora a scuola qualche mese e poi negli ultimi mesi di gravidanza non andrò più per riposarmi. Sì però questo non è giusto, dovrei stare anch'io, sono il padre. Sì sì certo, tu non c'entri niente. Già, volevi. Eh vabbè, io ci ho provato. Voi sapete già cosa indossare? Oh sì, io ho un vestito bellissimo, io sarò stupenda stasera. Sì, anch'io ho uno smoking molto bello. Dai facciamo colazione veloce che fra un po' iniziano le lezioni. Dopo in classe? Argentina, ho saputo che sei incinta. Congratulazioni. Grazie prof. Ehm, immagino che il fortunato sia Alex. Oh sì, sono il padre, sono molto felice. Si sa già se è maschio o femmina? Sì, però lo sappiamo solo io e Alex, non l'abbiamo detto a nessuno. Neanche ai tuoi amici? No, purtroppo no. Ma noi rispettiamo la sua scelta. Già, anche perché ci ha ricattato. Cosa? Ah no, niente. Ma non ti sembra un po' presto, insomma, dovrai lasciare la scuola e non penso che ci tornerai. Ehm, sì, cioè, prima di tutto non l'ho fatto apposta. E poi, vabbè, insomma, dai, sono in quinta. Vabbè, ho già fatto tanti anni, mi sembra. Sì, infatti, fortunata. Cosa, Samantha? Ehm, no, nulla. Ehm, visto che è l'ultimo giorno, possiamo vedere un film? Va bene. Anche per così festeggiamo la fine della scuola e Argentina. Oh, grazie, che gentile, prof. Oh, che fortuna che Argentina è incinta. E siete pronti per il ballo di stasera? Prontissimi, ci scateneremo! Sì, ho già un abito bellissimo. Bene. La sera a casa di Argentina è Danny. Oh, sarà una serata bellissima. Non vedo l'ora che Alex mi veda con questo vestito. Argentina, dai, forza, siamo in ritardo, dobbiamo andare. Oh, sì, arrivo. Mamma, noi andiamo. Wow, ragazzi, siete stupendi Dai, andate, se no fate tardi Poi mi raccontate com'è andata Portate qualcosa da mangiare Scherzo, cioè, se ne avete l'occasione Sì, se no, vabbè, fa niente Sei un po' emozionato? Eh, sì, vabbè, dai Non vedo l'ora di vedere Viola Andiamo Poco dopo Oh, non vedo l'ora di vedere com'è di là Anch'io, però dai, aspettiamo i nostri amici Sì, già solo l'entrata è bellissima Sì, poi hanno anche dipinto le pareti Wow, questo salone è proprio bello Cioè, è fantastico per le feste Sì, non solo per i teatri o cose per le cheerleader Ecco, Danny e Alex Cioè, Argentina Ciao, ragazze Ciao Wow, Argentina, sei magnifica Grazie, ragazze, anche voi siete fantastiche Danny, sei proprio elegante Grazie, grazie, anche voi Stiamo aspettando gli altri Così ammiriamo tutto insieme Va bene Un po' dopo Il buffet è davvero buono Noi siamo l'unica a non ballare O perché siamo single O perché non sappiamo ballare Vabbè, stiamo qui a mangiare A guardare i nostri amici Già, ci divertiamo comunque Questo ballo è davvero bello L'hanno organizzato benissimo Già, e tu sei bellissima Grazie, anche tu sei molto elegante Questa festa è fantastica Però la musica è un po' noiosa Vabbè, musica da ballare per le coppie Natalizia Vabbè, dopo facciamo delle richieste un po' più rock Sì, va bene Argentina, sei davvero fantastica Grazie Meno male, non sono Cioè, non ho ancora la pancia E riesco a ballare Ah, tranquilla Sei bella lo stesso Sono un po' stanca di ballare Quando finisce questa canzone Andiamo a mangiare qualcosa Sì, è parecchio che balliamo Sono stanca La canzone è finita Vado a fare la richiesta Sì, va bene Ok, adesso la mette Che cosa? Una musica un po' più movimentata Oh, ma questa andava bene No, questa è noiosa Va, DJ Yuhuu, questa sì che è una vera musica Possiamo allontanarci Non è da ballare in coppia Sì Ah, Marche e Samantha non cambieranno mai Vabbè, io non ho una coppia a modo suo Dai Ragazze, venite a ballare anche voi Una musica movimentata Oh, va bene Ok, arriviamo Ma con il bere? Sì, kiss, se ne divertiamoci Sì Uhuuu Un ballo meraviglioso, prof Grazie, ragazzi Grazie Ma a chi stavo parlando? Boh, ringraziamo Siamo tutti, prof Il ballo di Natale Migliore di sempre Stelline L'episodio finisce qui Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete il video E attivate la campanella Per questo Per Natale ho finito Poi loro si passano a Natale da soli E per l'altra serie di Chloe E Lisa E gli altri Magari faccio ancora un episodio Adesso guardo Penso che per la serie delle loro Riesco a farlo Lo farò qua su Tocaward Ce la faccio Ciao